A forza di pensare Spesso negli ultimi mesi mi era sembrato che, a forza di pensare, sarei arrivato al cuore del problema, ma questo continuava a sfuggirmi. Adesso cominciavo a mettere insieme alcuni pezzi del recente passato, frammenti di azioni e spiegazioni. Una delle stranezze del mio compagno era stata di passare ogni tanto una notte fuori casa con un motivo o un pretesto qualsiasi. Io avevo sempre sospettato della bella e giovane mulatta che faceva la badanta nella casa dei vicini. A volte avevo sorpreso un accogliente sorriso sul volto della ragazza. Avevo sentito qualcosa di intangibile correre tra lei e il mio compagno. E avevo intuito l'amara verità, anche se non avevo voluto ammetterne l'evidenza. Il mio compagno mi tradiva con la giovane mulatta. Per distrarmi avevo iniziato a fare yoga, ma presto mi ero reso conto che questa ginnastica spirituale non mi serviva per alleviare il dolore del tradimento. Quando mia madre aveva saputo che ero omosessuale, sulle prime mi aveva abbracciato e poi, con occhi che lanciavano fiamme, si era scagliata contro di me, accusandomi di essere un pazzo o un vizioso. Mia sorella più grande di me non mi aveva più voluto vedere e mio padre aveva detto col suo fare timido «essere omosessuale è sempre meglio che essere un ladro o un assassino». Quanto mi avevano fatto male quelle parole! Fino a quando mi imbattei nei libri dei maestri immateriali e seppi che per accettare chi non accettava la mia omosessualità dovevo conoscermi profondamente. Questo scambio di energie tra il dentro e ciò che mi sembrava il fuori del mio essere mi portò a comprendere più di me, di mio padre, di mia madre, di mia sorella e di tutti quelli che non intuivano nemmeno che la mia omosessualità era una scelta obbligata del mio essere e mai una pazzia o un vizio.